Ciao, come ti chiami? Silvia. Un'allieva di Roberta. Di Roberta. Come sta andando questa serata? Ma benissima, sono contentissima, è la seconda serata, già una volta abbiamo fatto un mese fa, e questa è la seconda? La seconda? Sì, sì. Il secondo esperimento che sta andando benissimo. Cantato? No, no. No? No. Ma no, bisogna cantare, c'è il karaoke, bisogna cantare. Eh, va bene, l'altra volta mi mancava la voce, oggi anche poca c'è no. Va bene. Roberta invece mi ha detto di darti questo buono per un massaggio alla schiena, perché vuole così darvi questo omaggio. D'accordo, ringrazio allora. Benissimo, quindi anche questa... Ok, grazie. Va bene. Grazie, ciao.